Siamo qui con Sergio Valzania, vice direttore di Radio Rai, giornalista, scrittore, autore radiofonico. Qual è il suo lavoro preferito e perché? Il lavoro preferito, se è un lavoro, è scrivere libri, perché dura tanto, ci si diverte, si imparano un sacco di cose, però non si può fare solo quello. Anche parlare dentro un microfono è molto bello. Tre parole per descrivere la radio? Divertente, piacevole, sexy. E una cosa della radio di cui proprio non può fare a meno? I cammini, io faccio i cammini in radio e andare in giro a piedi è bellissimo, raccontarlo alla radio gli dà uno spessore che ti costringe a pensare anche sempre a quello che stai facendo, è bellissimo. Ultima domanda, dove vede la radio fra dieci anni? Dov'è adesso? La radio secondo me è uno dei media più legati proprio a come è fatto l'uomo. Se uno sta in casa la mattina quando non può guardare niente perché sennò si taglia la faccia, non si lava i denti, deve andare di qua e di là, gli esce il caffè dalla caffettiera, qualcuno che ti parla in casa in maniera abbastanza amicale ci sarà.